Torna in piazza la protezione civile per le buone pratiche. Il 24 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Sulmona partecipa alla campagna Io non rischio. In questa giornata i volontari di protezione civile del gruppo comunale di Sulmona saranno in piazza per informare la popolazione sul rischio sismico, sui giusti comportamenti da adottare prima, durante e dopo il terremoto. Volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali del paese e delle buone pratiche di protezione civile. Volontari e volontari saranno presenti negli spazi informativi o non rischio realizzati online nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale. Fondamentale per la campagna, aggiunta quest'anno all'undicesima edizione, il ruolo attivo dei cittadini, che domenica potranno informarsi e confrontarsi nelle oltre 500 piazze tra fisiche e digitali, dove, con l'ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti approfondimenti sulle tematiche della campagna. A Sulmona l'appuntamento è nella centralissima piazza 20 Settembre. I volontari hanno anche promosso l'evento in forma digitale, invitando tutti i cittadini di Sulmona a un appuntamento speciale, la piazza digitale. Infatti si può seguire Io non rischio sui canali social Facebook e Instagram Io non rischio 2021 Sulmona, che ospiterà iniziativa utilizzando sempre l'hashtag Io non rischio 2021.